signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale ultimo video almeno per un po sull'argomento delle fazioni e anche video che va a concludere tutto il discorso che abbiamo iniziato con l'inizio di questa stagione sul mega dungeon ma anche dalla stagione scorsa con la gestione del sandbox in generale in previsione di quello che sarà il mega video di riassunto di tutto quello di cui abbiamo discusso nell'ultimo periodo voi pensavate me ne fosse dimenticato no ho solo dei tempi di lavorazione lunghissimi tutto quello di cui abbiamo parlato finora cioè come inserire fazioni come rappresentarle quali sono i loro scopi pratici diventerebbe del tutto inutile se poi una volta che i giocatori sono al tavolo si sta giocando i giocatori non riuscissero a differenziare una fazione dall'altra e a capire quale pg appartiene a quale fazione questa settimana andiamo quindi a concludere con un elemento apparentemente minore ma in realtà di fondamentale importanza nel vostro world building che serve appunto a rendere chiare quale siano le fazioni ai giocatori e vedere come fare a rendere questi elementi all'interno delle vostre descrizioni dell'ambiente per rendere immediato chi è che cosa questa settimana andiamo a parlare dell'estetica delle fazioni estetica è uno di quei termini ambigui che è molto spesso cambia di significato in base al contesto in cui viene esatto o anche solo la persona cui lo usa quindi per evitare confusioni diciamo che per quanto riguarda questo video andiamo a definire come estetica delle fazioni qualunque aspetto delle fazioni non sia prettamente legato alla loro giustificazione meccanica all'interno del mondo di gioco o al tema che le fazioni vanno a inserire in trama e quindi alla loro funzione narrativa all'interno del world building che i membri della gida dei ladri abbiano accesso abilità equipaggiamenti che li rendono più bravi a nascondersi a rubare e i membri dell'amministra cittadina ne abbiano che li rendano più bravi a cercare ad acciuffare chi si sta nascondendo rubando è un elemento che fa parte della meccanica del gioco e va a giustificare in regole quale sia l'abilità principale delle due fazioni che all'interno della città ci sia una grossa organizzazione criminale e che la risposta delle autorità cittadine sia quella di mandare uomini armati per sgominarla va a rappresentare all'interno del mondo di gioco qualosia lo stato dell'economia e dei rapporti di potere all'interno dell'ambientazione ma che i membri della gilda dei ladri usino lunghe cappe nere bavagli sul volto mentre i membri della milizia ostentino i colori bianco e blu del blasone della città sono elementi puramente estetici che servono a far riconoscere facilmente i membri delle due organizzazioni quando il master descrive il mondo di gioco attorno ai giocatori ma non danno alcuna altra giustificazione meccanica la loro presenza e questo è estremamente importante ed è proprio il motivo per cui l'estetica nonostante non vada a soddisfare nessun bisogno meccanico o pratico all'interno della storia o per quello che serve al master per condurre il gioco è un elemento su cui dovete sempre prestare attenzione e prevedere quando andate a preparare il materiale per la quest l'avventura che state organizzando quali sono quindi gli elementi su cui bisogna riflettere quando si va a preparare il war building per un'ambientazione o una quest prima cosa decisamente importante ma spesso del tutto ignorata è decidere quale sarà lo stile dei nomi della fazione e in linea generale quale sarà il campo semantico che la interesserà ne abbiamo già parlato all'inizio della storia del canale in un vecchissimo video ve lo lascio qua sopra ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa questo implica per la fazione detto molto chiaramente passerete tantissimo tempo durante la quest a citare nomi di personaggi e luoghi all'interno della vostra campagna e ci sono poche cose più fastidiose più che altro che buttano i giocatori fuori dall'immedesimazione di doversi fermare perché qualcuno sta balbettando perché non riesce assolutamente a ricordare come si chiami un determinato png o un determinato posto evitare del tutto questo problema è impossibile dopo tutto anche nella vita reale può capitare di dimenticarsi il nome di una specifica persona soprattutto nel gioco di ruolo poi dove una persona che all'interno del mondo di gioco è stata presentata pochi minuti fa ai personaggi nella realtà quei pochi minuti potrebbero essere un paio di settimane che distanziano una scena dall'altra per i giocatori un modo però per almeno cercare di arginare questo problema e fare in modo che tutti i png e anche i luoghi importanti abbiano un nome che per qualche motivo sia più facile da ricordare e associare a quel determinato png o a quel determinato luogo cioè fare in modo che i nomi siano non solo descrittivi ma quando parliamo di fazioni che siano anche in qualche modo facilmente collegabili tra di loro in modo appunto che appartengano tutti allo stesso gruppo di parole o campo semantico i giocatori potrebbero avere difficoltà a ricordare il nome del capo della gilda dei ladri che se si chiama Hans Winserlopper ma probabilmente si ricorderanno sicuramente del capo della gilda dei ladri che si chiama Fregos in tasca quale sia il modo migliore per associare i png ai nomi dipende in realtà da tavolo a tavolo e da tono di quest a tono potrebbero essere tutti i nomi ridicoli però questo per una quest invece voglia essere seria non andrebbe bene però potrete vedere quello che per i vostri giocatori è meglio magari tutti i png importanti hanno nomi di attori famosi o di personaggi di qualche opera, film, libro, opera narrativa, qualcosa del genere dipende da che cosa la gente al tavolo trova più comodo diciamo in linea di massima che quando si tratta di png soprattutto png importanti indipendentemente se sia una fazione o meno comunque sarebbe meglio evitare di usare un generatore i nomi casuali trovato su internet e perdere 10 minuti per dargli un nome effettivamente significativo relativo alla sua funzione all'interno della storia ogni volta che voi come master introducete un nuovo png e anche ogni volta che un png fa qualcosa all'interno del mondo di gioco voi come master dovete descriverlo e descrivere le sue azioni e questo è un momento in cui potreste inserire elementi di estetica di quel png che rendano evidente qual è la sua fazione o perlomeno qual è la sua alleanza che cosa rappresenta all'interno del mondo di gioco a livello più basilare come abbiamo visto anche all'inizio del video potrebbe essere qualcosa di molto semplice come un determinato colore o una determinata foggia di vestiti che tutti i membri di una determinata fazione indossino e che sia caratteristica solo di quella fazione all'interno del gioco questo potrebbe esservi molto utile soprattutto in scene in cui siano presenti molti png ma che per motivi proprio di verosimiglianza dell'ambientazione difficilmente si differenziano così tanto tra di loro in una classica ambientazione medievaleggiante come la si può trovare nella maggior parte dei setting di Dungeons & Dragons guerrieri e combattenti di fazioni rivali potrebbero avere grossomodo tutti le stesse armature e le stesse armi ma per il master potrebbe essere estremamente facile indicare qual è la loro alleanza ai giocatori semplicemente descrivendo come i loro scudi e magari i loro tabarri siano di colori diversi o abbiano disegni diversi al di là di tutto questo è qualcosa che aumenta anche la verosimiglianza nell'ambientazione anche nel mondo reale membri di gruppi diversi vestono in maniera diversa dai soldati che indossano specifiche divise diverse tra di loro in base alla nazione di appartenenza ma più semplicemente molta gente indossa una divisa per lavoro che ha i colori e le scritte che rappresentano qual è la ditta per cui lavorano e questo discorso ovviamente si estende a qualsiasi altra forma di simbolo che i PNG potrebbero indossare che rende evidente la loro alleanza che sia la raldica sullo scudo di un cavaliere medievale che incorpora anche il blasone della famiglia nobile a cui appartiene al fatto che le forze di sicurezza della megacorporazione abbiano tutte il logo della ditta stampato sull'armatura non limitatevi neanche a descrivere questi elementi solo esclusivamente quando il PNG viene presentato per la prima volta anzi ogni volta che i giocatori avranno la possibilità di intervenire o di interagire con uno specifico PNG il master potrà inserire elementi descrivendo quello che il PG fa che ricordino e reiterino la sua appartenenza a una determinata fazione nei loro viaggi per le terre del Rokugan i personaggi verranno coinvolti in una disputa verbale tra un samurai del clan dell'Unicorno e uno del clan del Leone ogni volta che il samurai del clan del Leone verrà descritto parlare gesticolerà con un grosso ventaglio su cui è dipinta la raldica del suo clan mentre il samurai dell'Unicorno avrà il collo monile anch'esso con la raldica del clan che scintilla ogni volta che si muove danno così la possibilità al master di ripetere più volte all'interno della scena la simbologia dei clan e quale sia associata a ognuno dei due se poi per giocare utilizzate supporti fisici o magari un tavolo virtuale giocato in telepresenza voi come master potreste anche perdere un attimo più di tempo per integrare questo tipo di elementi direttamente nel token o comunque nei supporti che usate per il gioco che riguardano una determinata fazione potreste per esempio fare in modo che tutte le pedine che rappresentano png di una determinata fazione abbiano il bordo dello stesso colore che sia anche il colore della fazione o magari abbiano il simbolo di quella fazione in questo modo per i giocatori sarà immediatamente evidente a chi appartiene quel png senza che voi master stiate a ripeterlo ogni volta anzi appena apparirà una pedina con quel determinato bordo i giocatori sapranno immediatamente qual è l'alleanza di quel png anche se voi non l'avete mai ufficialmente detta sia che utilizzate un tavolo virtuale che giochiate in presenza con dei supporti o che la vostra quest sia puramente verbale gestita solamente col teatro e la mente quello che è sicuro è che voi come master dovrete continuamente parlare per descrivere non solo quello che i png fanno ma anche proprio per far parlare i png all'interno della quest e quindi estremamente comodo e anche estremamente facile inserire elementi che differenzino i png o che associano png ad altri png dallo stessa fazione direttamente all'interno del modo in cui questi png parlano e si scrivono ad esempio personaggi che vengono da luoghi geografici diversi all'interno della vostra quest potrebbero proprio parlare con accenti regionali diversi se la provenienza geografica è importante come fazione all'interno dell'ambientazione quando i giocatori visiteranno la corte del re il re e gli altri nobili della capitale parleranno con un forte accento romanesco mentre i nobili che vengono dalle zone più periferiche del regno parleranno rispettivamente con un accento siciliano e uno piemontese e magari il dignitario straniero in visita potrebbe avere un forte accento tedesco o un forte accento arabo per rendere chiaro che viene da un posto ancora più lontano magari all'inizio questo potrebbe sembrare anche ridicolo ai giocatori un altro esempio del master che fa le vocine però in realtà rende immediatamente chiaro quale personaggio venga da dove e quindi permette al master di poter parlare anche vari png diversi nella stessa scena senza dover ogni volta ribadire quale sia il png che sta parlando e quale no rende molto più facile per esempio fare dei botta e risposta i giocatori non dovranno cercare di capire qual è il png che gli ha risposto o aspettare che il master glielo dica semplicemente dall'accento che il master sta usando capiranno chi è che sta parlando un'alternativa più sottile ma molto utile soprattutto se i giocatori sono attenti a questo genere di elementi narrativi e quella di usare non accenti ma registri linguistici diversi in base a quale sia l'affiliazione del determinato png il dipendente della megacorporazione soprattutto quelli corporativi dei piani alti magari parleranno in una maniera piena di jargon industriali inglesismi e buzzword da umenda mentre ovviamente i malviventi dello sprawl parleranno in uno slang dialettale tipico della malavita di strada ma in un'altra ambientazione i personaggi che appartengono a un particolare ordine religioso potrebbero usare come intercalari nomi o altri aspetti importanti della mitologia della loro religione ovviamente che cosa si adatta meglio alla vostra quest dipende dalla vostra quest ma tenete a mente che semplicemente variare il modo in cui parlate è probabilmente il metodo più veloce per far immediatamente riconoscere non solo a quale fazione appartiene un png ma anche proprio quale sia il png che sta parlando ovviamente esistono innumerevoli altri modi per rappresentare l'estetica della fazione all'interno del gioco ma diciamo che questo video è anche durato troppo il discorso è chiaro questi sono i tre metodi che io preferisco e sono quelli che io uso più spesso perché li trovo più facili ovviamente adesso la parola sta a voi scrivetemi qui sotto nei commenti quali sono i metodi che usate voi e perché li ritenete migliori o peggiori rispetto a questi con questo video chiudiamo anche come ho detto tutto l'argomento generale sul sandbox poi ci sono un sacco di cose specifiche di cui dovevamo parlare e comincerò la lavorazione di quello che dovrebbe diventare il mega video riassunto che sarà probabilmente un'impresa decisamente grossa per cui dovete aspettare un attimo e se tutto va bene ho intenzione di coinvolgere direttamente voi della community nel progetto quindi aspettatevi dei messaggi sia sul gruppo di telegram che sul gruppo i discord per quelli di voi che non ci sono ancora trovate sotto in descrizione i link per l'invito su quei gruppi metto anche io manualmente ogni volta che esce un video la notifica del video perché so che le notifiche di youtube la maggior parte non funzionano sì lo so voi continuate a dirmelo no le notifiche automatiche di youtube non funzionano anche se schiacciate la campanella non so cosa dirvi per questo video comunque è tutto come sempre se avete domande dubbi o perplessità scrivetelo nei commenti qui sotto se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che è avuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella anche se questo non vi farà avere notifiche dei video io sono il master CAE e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao ciao